ben ritrovati e questo nuovo video nel quale vi voglio parlare di un modulo particolare che si chiama up armor gli anticipo subito che non entreremo nei dettagli tecnici di questo argomento perché sono piuttosto complessi e a mio parere decisamente fuori dai limiti del nostro canale dei limiti che ci siamo imposti per questo canale che devono essere sempre piuttosto semplici chiari alla portata di tutti ecco up armor in quanto tale va ben più in là di ciò perché entra proprio nel sistema nei profili nella gestione degli applicativi dietro le quinte quindi ve lo presento più che altro con lo scopo di mostrarvi o dimostrarvi come un sistema linux sia sicuro e ancor più sicuro grazie a moduli come up armor ecco questo perché anche perché nel mio video precedente in un mio video che trovate sul mio canale quindi registrato un po di tempo fa dal titolo linux virus e minacce varie parliamone un po ecco in questo mio video quindi se andate a cercarlo sul canale lo trovate senz'altro avevo già ampiamente parlato della solidità e sicurezza dei sistemi basati su linux a fronte delle varie minacce presenti in rete quindi intrinsecamente in quel video ho spiegato come il sistema linux sia più sicuro di altri e questo è un dato di fatto ecco in questo video appunto come recita il titolo vi voglio presentare invece un modulo in più un qualcosa che lavora dietro le quinte e che ci permette di ottenere un sistema ancora più sicuro lavorando direttamente sugli applicativi che noi usiamo nel nostro sistema ecco allora questo modulo questo programma questo software che lavora come ho detto dietro le quinte silenziosamente dietro le quinte noi non ci accorgiamo di nulla ma parmore attivo sul nostro punto quando la installiamo si tratta appunto dunque dicevo di questo modo che si chiama up armor ecco diciamo un nome che suona un po militaresco app sta per applicativi armor per diciamo così armatura richiama un po suona un po anche a noi di lingua italiana come armatura quindi potete già immaginare dove andiamo parare quindi una protezione degli applicativi ecco andiamo un po passo passo giusto vedere i concetti che stanno dietro è un po cos'è questo a parmore un po più in dettaglio dunque a parma è un modulo di sicurezza dunque ha il suo scopo è questo lavora nell'ambito della sicurezza e che lavora localmente sul nostro pc ecco quindi quando voi installate ubuntu questo a parmore viene installato per difetto voi nemmeno ve ne accorgete viene installato e si attiva all'avvio del vostro pc e quindi c'è e lì zitto zitto fa il suo lavoro e qual è il suo lavoro o come compie il suo lavoro ecco a parmore lavora mediante dei profili specifici per applicativo ovvero per programma che abbiamo installato sul nostro sistema questi profili sono in quanto tali non sono nient'altro che dei file di testo con una sintassi particolare che il programma parmore riconosce e da questa sintassi riesce a capire cosa fare come agire e quindi a parmore stesso definisce cosa può e cosa non può fare soprattutto cosa non può fare un applicativo così come quale risorse del sistema ovvero cartelle altri moduli altri programmi può e non può accedere questo applicativo ecco questo in sostanza è il succo di ciò che fa up armor quindi gli vengono dati in pasto dei profili specifici quindi per applicativo e questo parmore applica questi profili all'applicativo stesso quando viene avviato da noi come utenti normali quindi ea un suo scopo tutto questo lo vediamo fra un attimo e quindi però questo è il meccanismo di funzionamento quindi a parmore si sovrappone a ogni potenzialmente perché ad ogni programma e gli impone cosa può e cosa non può fare questo programma dico potenzialmente perché in realtà per difetto quando viene installato a parmore ci sono alcuni profili già predefiniti e attivati ma non per tutti i programmi non è che noi quando andiamo in un nel ubuntu software center ci scegliamo un applicativo qualsiasi un programma qualsiasi da installare che ne so gimp non è che automaticamente si attiva anche un profilo g per a parmore semmai dobbiamo attivare noi se riteniamo necessario un profilo per appare per noi intendo il l'esperto di turno ecco il sistemista di turno non noi utenti normali di questo non dobbiamo preoccuparci perché chi ci prepara il sistema ubuntu all'installazione provvede già ad attivare alcuni profili interessanti e utili già per difetto quindi di questo non dobbiamo preoccuparci con questo il meccanismo di funzionamento di app armor ecco e cosa succede quindi un applicativo sotto il controllo di a parmore con il suo profilo è confinato e limitato nel suo operare solo le parti di sistema volute e necessarie e nel modo necessario cioè per esempio se un programma tal dei tali deve accedere ad una cartella con app armor noi possiamo dirgli guarda che quella cartella lo puoi accedere solo in lettura per esempio quindi non può scriverci non può cancellare il contenuto di quella cartella quel tal programma in questo modo un applicativo che per esempio a causa di minacce esterne all'applicativo stesso è diventato pericoloso ovvero in qualsiasi modo sia stato possibile un applicativo cambia muta il suo comportamento grazie a una minaccia esterna che è riuscita a innestarsi in questo applicativo e quindi gli fa fare dei lavori per i quali l'applicativo non era previsto ma quindi diventa pericoloso per il nostro sistema o un applicativo che comunque per sua natura ha lo scopo di gestire il contenuto che può diventare pericoloso per il nostro sistema ubuntu ecco che grazie a questa applicazione di un profilo app armor che controlla questo stesso applicativo è confinato l'applicativo e quindi in realtà non può fare quei danni che potenzialmente potrebbe fare in assenza di app armor ecco quindi qual è il suo scopo oltre al meccanismo di funzionamento di app armor con questo paragrafo abbiamo visto cos'è lo scopo quindi tenere sotto controllo quanto può fare un applicativo ecco e questo appunto provvede alla fin fine il valore aggiunto cos'è è ancora più sicurezza per il nostro sistema linus perché se già di per sé intrinsecamente più sicuro contro i virus eccetera eccetera addirittura con un modulo come questo uno strato ulteriore di sicurezza perché ci permette di controllare i singoli applicativi che abbiamo installato e gli permettiamo a questi applicativi di fare solo ciò per cui sono stati previsti originariamente quindi a qualsiasi modifica non prevista un applicativo che magari tutto un tratto malevolmente gli si dice guarda di andare a scrivere o cancellare una certa cartella se noi per quel profilo parmo gli abbiamo detto no guarda che in quella cartella puoi solo leggere non ci sarà niente da fare quell'applicativo non potrà fare danni ecco questo è molto molto interessante da sapere tutto vi ricordo come ho detto all'inizio del video tutto è dietro le quinte silenziosamente noi non ce ne accorgiamo ma a parmor e lì vigile controlla per noi cosa un applicativo può fare non può fare allora tra l'altro qui sullo sfondo avrete notato la solita pagina wikipedia del nostro fedele enciclopedia universale libera e ho messo come sfondo di l'iniziale di questo video ho messo la pagina dove spiega appunto cos'è a parmor le sue origini la storia eccetera eccetera la pagina in italiano di wikipedia poi come sempre nella descrizione vedete qua alla fine della mia scaletta ho messo vari link per chi vuole approfondire per chi è interessato per chi è già un utilizzatore di sistemi lino scafato un sistemista che ne so che gli interessa conoscere più dettagli su questo a parmor ecco che ho messo dei link qua allora eramori arrivati qua dunque quando installiamo il nostro sistema ubuntu dico ho già detto appunto che a parmor viene installato e assieme a lui anche alcuni profili per alcuni applicativi vengono già attivati per difetto già automaticamente come possiamo vedere questi profili attivati così più per curiosità c'è un comando che è questo dobbiamo farlo a terminale sudo app armor sottolineato quindi righetta bassa status o status in inglese e questo ci fornisce un elenco dei profili e per quali applicativi sono attivi in questo momento ecco siccome come vedete qua sotto vi darò una piccola dimostrazione dell'effetto che può avere a parmor su un applicativo installato ho preparato il tutto in una virtual box e quindi in questo momento passo alla virtual box eccoci qua o passo la virtual box che nel frattempo si è bloccata eccoci qua e quindi direttamente nella virtual box vi mostro l'effetto di questo comando quindi lo faccio sudo allora qui l'avrò già sicuramente fatto ecco sudo app armor status che equivale a questo altro comando è tra l'altro non non l'ho scritto qui ma per completezza lo posso anche scrivere anche adesso indirettamente registro ecco questi due comandi sono equivalenti qui ho usato questo che comunque identico sudo app armor status faccio enter ci chiede la password ovviamente essendo un comando di sistema che ha bisogno della password amministrativa ed ecco che qui usate il risultato di quel comando è questo elenco che parte eccolo qua abbiamo fatto qual comando quindi ci sono 22 profili caricati per difetto quando viene installato ubuntu ecco vedete qui i profili che riguardano vari programmi fra i quali per esempio uno noto o che magari non si sa che si chiama così ma è quello il visualizzatore dei documenti pdf si chiama evince o evince in inglese presumo che lo pronunciano così vedete che per esempio evince è controllato per difetto da a parma quindi gli è stato applicato un profilo non so posso ipotizzare che siccome i file pdf a volte possono contenere del del codice malevolo ogni tanto si sente parlare di notizie di pdf pericolosi presumo che magari hanno applicato al programma che può leggere i pdf un un profilo per controllare cosa può fare ecco poi qui vedete un profilo ag edit quindi l'editor di testo in realtà questo è quello che ho creato io per farvi la dimostrazione che vi faccio fra un attimo quindi in realtà nell'installazione per difetto di ubuntu non trovate un profilo assegnato al programma editor di testo installato in ubuntu e questo qui appare perché l'ho creato io come dimostrazione quindi fate finta che non ci sia ci sono altri ecco network manager che il programma che gestisce le connessioni di rete che poi quello dell'iconcina qui in alto a destra questa qui vedete le connessioni qui dietro ci sta network manager anche lui sottostà a un profilo o sottostà ad un profilo di apparmor per controllare cosa può fare un network manager o meno probabilmente le connessioni wifi e non wifi accessi non desiderati non previsti eccetera non lo so comunque vedete ci sono vari vari programmi che sottostanno ad un profilo apparmor per non dico limitarne le funzionalità ma controllarle quindi non è che questi programmi sono limitati sono tra virgolette castrati nel loro utilizzo noi non ci accorgiamo di nulla possiamo fare tutto quello che questi programmi sono prevedono di poter fare con essi però appunto con un profilo apparmor magari vengono controllati dove possono scrivere in certe cartelle eccetera eccetera ecco per evitare danni al sistema eventuali danni al sistema ecco quindi qui vedete che ci sono appunto tutti questi profili attivi per difetto all'installazione e questo è il comando lo stato di apparmor che appunto è attivo per difetto sul nostro sistema ok nel nostro uso quotidiano non ci accordiamo di nulla ecco questo l'ho già detto durante la registrazione del video fino fino a questo momento quindi qui ribadisco che questi profili sono impostati in modo da non impedire nulla in realtà noi sembra che non venga impedito nulla ma questi applicativi vengono appunto controllati nella loro gestione nel loro uso delle risorse del nostro sistema ecco una nota anche storica quindi dal 2009 canonical contribuisce direttamente allo sviluppo di apparmor quindi uno dei progetti ai quali canonical contribuisce direttamente ecco adesso per concludere il video naturalmente è una dimostrazione ed obbligo perché così finora credo di essere riuscito a parole a spiegare che questo apparmor è un modulo che contribuisce ad aumentare ulteriormente la sicurezza del nostro sistema ma se non c'è un esempio concreto magari così non resta un po' virtuale il discorso ecco allora come ho detto all'inizio del video non entriamo non entriamo ecco magari nascondo questa nota che ci disturba così abbiamo tutto lo schermo ecco non entriamo nei dettagli tecnici di apparmor perché va veramente al di là degli scopi del nostro canale youtube quindi fate conto che io ho già creato un profilo per il programma gedit quindi l'editor di testo standard di ubuntu e questo profilo così come tutti gli altri già presenti per difetto all'installazione del sistema sono salvati sono archiviati nella cartella di sistema etcaparmor.d lo vedete qua sopra dove sto muovendo il mouse e qua dentro vedete i vari profili anche in sottocartelle eccetera eccetera fra i quali c'è quello che ho creato io proprio a scopo didattico non chiedetemi perché deve chiamarsi così il profilo non fa niente viene creato così dalle utility dai programmi di utilità di apparmor lasciamo stare comunque usr.bin.gedit è il profilo è il file contenente il profilo di cosa può e cosa non può fare gedit quindi in questo momento avete visto che il profilo di gedit è attivato è riconosciuto da apparmor e quindi in questo momento in questa macchina virtuale gedit è sotto il controllo di un profilo apparmor che io ho creato questo profilo è qua eccolo aperto in un editor di testo che non è gedit ma è un editor di testo a terminale che è presente già installato in tutte le installazioni linux direi sicuramente anche di ubuntu si chiama nano questo editor di testo e basta richiamarlo a terminale nano con il file da editare e vi si apre un editor di testo insomma che non è proprio gedit ma permette di fare i nostri lavori né più né meno come qualsiasi editor di testo normale ecco allora vedete che io ho aperto in questo editor nano il file etc apparmor.d usr.bin.gedit che è proprio il profilo apparmor applicato al programma gedit poi che cosa ho fatto per facilitare la dimostrazione ho creato sulla scrivania di questa macchina virtuale un documento con gedit un file di testo normalissimo documento senza titolo non gli ho neanche dato un nome documento senza titolo 1 classico nome di gedit lo apriamo eccolo qua si apre normalmente gedit con dentro due righe pipo pipa e vedete che questo file questo documento di testo è presente nell'elenco delle risorse che apparmor controlla tramite il profilo quindi nel profilo vedete che è presente il documento nella mia home scrivania quindi nella scrivania documento senza titolo 1 ed è incluso nell'elenco delle risorse di sistema di questa macchina virtuale che il profilo apparmor controlla tramite apparmor ecco in questo momento vedete che il mio documento senza titolo senza titolo 1 è specificato con due lettere qui in fondo r e w w vuol dire che il profilo apparmor dice ad apparmor che gedit può sia leggere read quindi r sia scrivere w write questo documento quindi questo file di testo con gedit con questo profilo apparmor posso sia scrivere che leggere normalissimamente come siamo abituati a fare con gedit con qualsiasi file di testo che noi creiamo tutti i giorni con il nostro sistema quindi dimostrazione di apparmor vedete che io ci scrivo e schiaccio il pulsante salva ok l'ho salvato posso anche chiudere vedete che già qui nell'icona appare anche la terza riga vedete pipa pipo dimostrazione posso riaprirlo e vedete che normalissimo fin qui è proprio trasparente come se non esistesse il profilo apparmor adesso appunto proprio a puro scopo didattico dimostrativo dell'effetto che apparmor lavorando dietro le quinte ha su un applicativo che controlla tramite un profilo io tolgo la possibilità di scrivere in questo documento quindi col mio editor nano vado sulla riga corrispondente al documento senza titolo 1 e tolgo la lettera w cosa vuol dire togliere la lettera w vuol dire che lascio solo la r ovvero potrò solo leggere una volta salvato il profilo e aggiornato questo profilo nel meccanismo di apparmor perché adesso io salvo questo profilo salvare sì ho permesso negato forse non l'ho aperto scusate forse non l'ho aperto con i diritti di scrittura scusate adesso esco 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 salvare no ecco infatti scusatemi avevo già preparato l'editor aperto ma mi sono dimenticato di metterci il comando sudo davanti e quindi vedete che ho aperto il file in lettura ma non avevo i diritti per scrivere quindi scusate errore mio quindi sudo adesso la password e così finalmente posso scrivere posso potrò scrivere in questo profilo perché in una cartella di sistema e non nella nostra home e questo lo sappiamo già chi ha già seguito altri video sul mio canale sa che appunto sotto linux noi siamo liberi con la nostra user di scrivere leggere e scrivere nella nostra home quindi nel nostro spazio disco ma non al di fuori quindi dobbiamo aver bisogno abbiamo bisogno di una password di amministratore dell'utente root per poter modificare un file che è al di fuori della nostra home in questo caso etc apparmor.d quindi torniamo alla nostra dimostrazione dico tolgo la possibilità di scrivere in questo documento che ho aperto qui sulla sinistra tolgo la w per write e lascio solo la r per read adesso salvo e dovrebbe permettermi di salvare salvo sì voilà scritte 292 righe è salvato però non è ancora aggiornato rinfrescato il profilo qui all'interno di apparmor per il momento è ancora attivo quello vecchio di profilo che vi permette di salvare infatti se schiaccio salva vedete che posso salvare quindi prima devo aggiornare il profilo e non sto a spiegarvi il comando appunto perché ho detto che non entriamo nei dettagli adesso abbiamo riaggiornato il profilo all'interno di apparmor e vediamo un po' cosa succede salvo e vedete che è impossibile salvare il file permessi forse qui è scritto un po' rosso nero su rosso non si vede tanto lo seleziono così si legge meglio permessi per salvare il file insufficienti ecco vedete l'effetto di apparmor io gli ho tolto l'opzione W per scrivere non posso più scrivere questo documento lo posso solo aprire quindi se io chiudo chiudi senza salvare perché so che non posso salvarlo se io lo riapro lo posso aprire lo posso leggere ma è inutile che prova a modificarlo vedete non posso più modificarlo chiudiamo di nuovo il nostro documento e facciamo un passo ulteriore per concludere questa dimostrazione anche se già vi è saltato all'occhio l'effetto di apparmor ho cambiato un profilo qui di sistema e di là l'applicativo ha iniziato a comportarsi diversamente è stato limitato nelle sue possibilità a questo punto io voglio che quel documento senza titolo 1 non venga nemmeno più aperto e quindi non mi limito a dirgli di poterlo leggere e non scrivere ma addirittura voglio proprio che non riesco nemmeno più ad accedere a quel documento con gedit quindi rimetto pure il W per la scrittura e quindi lettura scrittura qui lo rimetto allo stato originale però davanti ci scrivo la parola inglese deny che vuol dire nega vuol dire impedisci nega deny tutto quindi il profilo apparmor in questo momento quando l'avrò salvato e rinfrescato nel sistema apparmor ecco lo salvo in questo momento apparmor si accorgerà che questa risorsa del nostro sistema questo documento senza titolo 1 non può essere acceduto da gedit con il mio profilo con la mia user non posso più accedere non ho più diritto di accedere allora andiamo a aggiornare il profilo nel sistema apparmor quindi aspettiamo che lo aggiorni voilà aggiornato questo punto provo ad aprire il mio documento e voilà vedete che non appare più il contenuto perché non ho più diritto di vederlo e vedete che qua mi dice guarda che non hai permessi sufficienti per aprire il file quindi non solo per leggere o per scrivere ma addirittura non posso neanche più accederlo ecco quindi avete visto didatticamente così con un esempio un po' banale anche sciocchino se vogliamo ho voluto forzatamente limitare gedit quindi l'editor di testo installato per difetto in ubuntu ho voluto limitarlo in due modalità differenti specificatamente su un singolo documento quindi non magari su tutta la home non su una cartella specifica ma giusto per didattica su un documento specifico grazie a un profilo apparmor vedete che apparmor lavora dietro le quinte non ci accorgiamo di nulla ma ce ne accorgiamo dei suoi effetti quando proviamo poi ad usare il nostro applicativo gedit che però è stato limitato in determinate risorse del sistema in questo caso solo questo specifico documento ecco credo di aver detto tutto se non sbaglio torniamo alla nostra scaletta ecco sì appunto i riferimenti sul web in rete per andare ad approfondire il discorso sull'apparmor comunque anche con questa dimostrazione vi ho mostrato come apparmor agisce dietro le quinte quindi laddove è necessario limita limita le possibilità di andare a ritoccare magari il sistema o file di sistema da parte di un applicativo così non può fare danni ecco voilà questo era un contributo in più se mai ce ne fosse ancora bisogno per dimostrarvi quanto Linux è di fatto più sicuro già lui quanto tale e con moduli come apparmor può addirittura essere ancora più sicuro portato avanti ancora di più il concetto di sicurezza confinando anche gli applicativi installati ecco con questo ho concluso anche questo video spero vi sia risultato interessante vi aspetto alla prossima occasione un saluto ciao ciao